L'amministrazione comunale giarrese ha incontrato al Salone degli Specchi del Municipio i rappresentanti e gli attori del mondo del commercio cittadino. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del bicentenario della Fondazione del Comune di Giarre. All'incontro sono intervenuti il Vice Sindaco Salvo Patanè, Francesco Candido, Presidente della Confcommercio di Giarre, ed i commercianti Armando Cutuli e Alfio Previtera. Nell'occasione al Comune di Giarre è stata donata da parte di Fabio Gaetano e Fatima Gullì un'opera a china su cartoncino di Vito Sorbello. Raffigurante il fonte con il puttino di Villa Garibaldi. L'occasione bella è che la famiglia Gullì, scomparso recentemente Nino Gullì, che è il capostipite di una generazione di commercianti molto attivi, propositivi e ottimisti, ha deciso di donare al Comune un'opera di Vito Sorbello, una china, che loro peraltro hanno utilizzato anche a scopo commerciale. Quindi è come se una parte del commercio entrasse ufficialmente nel Palazzo di Città, ma non per gratificare l'amministrazione o il Sindaco, ma perché il Palazzo di Città è il palazzo comune, la casa di tutti e quindi mi è sembrato molto bello questo gesto che stasera in qualche modo stiamo celebrando. L'occasione poi è quella del bicentenario, la città si è trasformata, il commercio è diventato diverso, il rapporto con le persone si è ulteriormente affinato, ci sono nuovi strumenti di comunicazione, c'è la grande distribuzione, c'è internet. Stiamo affrontando questi temi, non vogliamo essere esaustivi, probabilmente ci vorrebbe un seminario o un simposio per verificare esattamente quali sono tutte le componenti che ruotano attorno alla trasformazione urbana e al commercio, però devo dire che prospetticamente i nostri ospiti dal Presidente della Confcommercio, Candido, a Cutuli, a Previdera, tutti e tre peraltro hanno rivestito il ruolo di Presidente della Confcommercio, credo che possa essere interessante e possa darci la possibilità di poter affrontare con serenità, così come sta emergendo da questa chiacchierata, da questa conversazione, gli anni che abbiamo davanti. Il commercio a Giarre in effetti ha delle radici antichissime, quindi piuttosto che valutare quello che è successo negli ultimi vent'anni, è giusto valutare la presenza del commercio e dei commercianti in un periodo molto ampio che risale anche a più di cento anni fa. Ovviamente è una tematica molto articolata che non si può ragionare in pochissime battute, ma da sé il fatto che comunque il commercio è legato a doppio filo alla vita amministrativa e quindi alla storia del Comune di Giarre e con il Comune di Giarre è cresciuta, ha vissuto dei momenti felicissimi, ha vissuto e sta vivendo dei momenti un po' bui legati alla sicuramente contrazione di mercato, ma anche al fatto che comunque bisogna un attimino continuare a non perdere la speranza, bisogna continuare a seminare perché così facendo, essendo Giarre una realtà che comunque ancora è ferida nel mondo del commercio, continuando a seminare, si raccoglieranno quei frutti giusti dal lavoro, dalla fatica che fa un commerciante ogni giorno che ogni volta apre il proprio negozio e si mette a disposizione con la propria competenza, la propria professionalità dei clienti e della clientela.